Per il suo mistero, l'annuncio del Regno di Dio. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia. Aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto «Lo Spirito del Signore è sopra di me. Per questo mi ha consacrato con unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio». Preghiamo per che il Signore continui a chiamare uomini e donne che decidano di stare con Lui disponibili ad essere inviati nel suo nome. Tercer mistero, l'annuncio del Regno di Dio. Gesù dice «Converti-vos e credo a Dio». Oremo per pedir la grazia del perdono. La terza mistero della vita. Gesù preghi il Signore del Regno di Dio. Gesù sape, preghi e credo a Dio. Gesù preghi e credo a Dio. Gesù preghi e credo a Dio. Gesù preghi e credo a Dio. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.